e ciao a tutti ed eccomi in questo nuovissimo video di farming 15 questo è il 24esimo episodio della serie come detto già nel scorso episodio che abbiamo fatto un po di line per ricevere un po di soldi in questo episodio fare un paio di acquisti allora andiamo dal venditore qua allora ho detto che comprerò una cosa cioè un nuovo trattore io pensavo di prendere lo style quello forestale prendiamo costo uguale e con la correcatore frontale per i tronchi e poi perché ho detto che mi sono detto che devo comprare una cosa per 45.000 ho aggiunto sì ho aggiunto un paio di mod ma mi serve una mod precisa all'inizio ho pensato di prendere questa no il camera eccetera solo non ci vuole più di avere questa cosa allora questo agro liner io direi di prenderlo e poi con questo da bosco devi prenderlo verde speriamo che è un verde verlo non è male qui il nostro liner bello nel scorso episodio adesso mi sono riconato per fortuna avevo detto che no avevo dimenticato di dire che volevo chiedere questo ditemi nei commenti quando faccio io le cose forestali eccetera bla 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 quando carico legna eccetera ditemi quelle parti ve le velociggio ve le taglio completamente vi faccio vedere solo quando vendo così che vedete quanto taglio eccetera oppure ve le lascio completamente che non credo che sia buona idea no ok allora tranne l'episodio se qui c'è un trattore bugato che prima c'era scritto che sta andando 8000 chilometri ok a me mi serve il lamborghini e questo qua è bello tozzo dovremmo anche dare qualche lavata ad alcuni mezzi però non c'ho voglia voglio provare poi una cosa non ho mai provato così per non fare 350 miliardi di viaggi qua tagliamo per i campi giusto per accorciare un po' le strade bene siamo quasi arrivati ho leggito di prendere l'amborghini siccome è un po' più veloce e più forte degli altri ha un po' di più di cavalli perché la grind è un po' pesante allora attacchiamo questo rimorca è solo un problema si sporca pure però non lascia le tracce che non mi pare una cosa chissà che grave alziamo il gancio attacchiamo questo è quello che può andare vabbè e con la ripetita così prendiamo il trattore ah si è la giavorra è il trattore allora P questo è un riguardo si è sempre la più pesante attacchiamo ho provato già un po' a caricare la legna proprio con questo trattore ho visto che con il rimorco si riporta bene eccetera però voglio ora voglio provare un'altra cosa e cioè caricare il trattore su per fare un unico viaggio mi sembra difficile dovremmo fare due viaggi perchè anche se prenderei il rimorchio che non so se c'è proprio per trasportare i mezzi non so se c'è si questo c'è però dovrei poi ritornare con questo agroliner quanto è importante dovrei poi ritornare con l'agroliner e di nuovo doppio viaggio allora alziamo questo si deve scegliere non era l'altra poi credo che sia un indirizzo di solo ok allora io direi di fare un taglio mi direi di portare tutti i mezzi in bosco nella zona dove tagliamo senza dove tagliamo la dove c'è la scorpion ma se poi faremo ancora una vendita e cioè il rimorchio con la vecchia la steppa e vabbè il suo trattore fa qualche drifting troppo anche il rimorchio un po' da ma si fa i 9 km l'ora anche salita ripida però ci sentiamo dopo quando ho portato entrambi i trattori la ok ora sono andato anche con questo trattore ok però lo riparcheggio qui dentro entra vari incidenti si poi lo metterò questo giorno tra dopo ok ok allora no ecco risetta si ok questo è tutto prendiamo il trattore e portiamo a vendere questo rimorchio perchè e portiamo a vendere questo rimorchio Ok, siamo arrivati qua Ora, nuovo andiamo Così per ricevere un po' di soldi e anche spese giornaliere per 31.000 Poi rispetto a 58.000 precisi Bene, io direi di vedere un po' qua Pese lunga, costi operativi, assicura manutenzione Come ho detto abbiamo qua Sì, perché l'ho istituito un po' Come ho detto siamo qua in negativa Sì, perché avevano i liquidi comprato Qua Io ho bisogno di comprare qualche alveare Siccome Vedete posizionabili Si guadagna 30 euro all'ora Ci paghiamo per esempio il prestito E poi non hanno bisogno di niente Questo hanno bisogno dell'acqua e della merda semplicemente Danno anche di più Questo dà 190 all'ora Questo dà 2.000 all'ora Madonna E spende 50 il giorno Questo spende 8 il giorno Abbiamo però... Sì, sì, ha il guadagno, no? Però non hanno bisogno di niente Eppure questo non ha bisogno di niente Eppure questo Dove qua si guadagna 2.000 euro Solo costa 1.200 euro Io direi di prendere questo E di metterli qua in casa Dove potremmo metterli? Qui dietro si potrebbe fare Una distesa Passando lì Un po' di scuro Allora Pupupupu Qua sotto Ecco Andiamo 50.000 Mi direi di prendere 2 E basta Più o nemmeno non possiamo prendere Bene, bene, bene Allora Mi direi di pian pianino 4.000 episodi Di salvare pure Mi risolvare Se succede Per esempio Se succede che crasho il gioco Devo rifarmi tutto Perdo tempo Allora Portiamo questo a casa E poi vediamo la situazione Credo che adesso Anche l'ultimente Pugnino Credo che adesso Anche l'ultimente Pugnino Qua abbiamo questo trattore Io lascio qua Andiamo a vedere Verociamente Gli alveari Ecco I nostri bei Alveari Qua si farà La distesa Si può fare anche Due file Bene Allora Vediamo Questo E qua Lo mettiamo In automatico Questo qua Ok Questo Però Lo lasciamo Questo Lasciamo Questo Si è qua Incastrato Come Cavolo Ti sei fatto Incastrare Ok Ok Se è in avanti Questo Ok Questo Ok Qua abbiamo Scopio Chiudiamo un po' Lel Non c'è ne è tanta Ma C'è L'ultimente Secondi Voi consigliatemi Qualche Trattore Che trattore Comprare Quello Prostimo Vediamo Qua Dove ci sono Uh Questo C'è il 5% Di sconto È un 190 Cavalli Che non è male Tra 10 ore Però Non abbiamo soldi Questo è 160 Un po' Di meno 140 Questo è 130 Questo non è Questo H potente Oppure il T8 Questo Dove Siamo stati presti per ora Bene Allora Che vediamo No Qui Che vediamo come stiamo con la semina Qua sta semenando Sì qua Togliato Giusto Allora qua abbiamo messo colza Qua abbiamo messo Ah pure colza Tutto colza Vabbè Se abbiamo seminato colza Almeno non ci serve Questo bar Per loro Questo è il sistema Off camera Bene Direi che per questo episodio È tutto Nel prossimo episodio Credo che Sarà già Tutto seminato Lascio qua Adesso aperto Il gioco Che Sembrano Solo Che Non so Ah non so Non so Ah sì Perché Qui c'è molto Giusto Questo Fa così Abbiamo Questo Sta lavorando Abbiamo tutti Medi Sporchi Qua le mucche Come sta Anche vediamo Un po' Gli animali Velocemente Pecore Se Adesso Lasciamo stare Le mucche Tre Gioco Ci sono 99 Di latte Anzi 6 latte Non abbiamo messo Niente Facciamo il liquido 6 con 5 mucche Ok Che Velocemente Comprare Qualche Altra Mucca 10 Mucche A 10 G Com Anche Lascio scaricare Lo stesso Vabbè Dovrei scaricare Questa Rimorca Per ora Lasciamo Allora Allora Io direi Che Siamo Già Ai 20 Minuti Quasi Sì perché Io sto Adesso Stando da 20 Minuti C'è Quella Parte Che ho Teglato Bene Io direi Che Per questo Episodio È tutto Noi ci Invecchiamo Nel prossimo Episodio Dove Non so Cosa Faremo Allora Non ne ho Idea Questo Episodio È un Episodio Acquisti Bene Allora Questi sono I nostri Acquisti I nostri Due Alverari Quindi I due Alverari Io vi Lascio Noi ci Bicchiamo Nella Prossima Se non Siete Iscritti Iscrivetevi Per essere Giornati A nuovi Video Commentate Per dirmi La vostra E Rispondetemi Alle domande Che ho fatto Prima Cioè Ditemi Per la legna Quella parte Ve la taglio Ve la velocizzo Ditemi La cosa migliore Per me Che a me è uguale Poi alla fine La stessa Ma Cioè Se taglio Ho meno lavoro Di tutto Se velocizzo Ho Quasi più di tutto Lavoro Ma se non velocizzo Mi serve Molto più tempo Per renderizzare E vengono Meno video E Anche video Pi lunghi Diciamola Così Bene Se il video vi è piaciuto Lasciate un like Commentate Iscrivetevi E noi ci vediamo Alla prossima E ciao 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 Grazie a tutti.